buongiorno a tutti gli amici tech different test videoregistrazione ultra hd 4k con il motorola moto x force o droide turbo 2 come lo chiamano in america facciamo una panoramica ora andremo a fare il nostro classico zoom qui siamo al massimo vediamo che si vede abbastanza bene che siamo a metà e qui torniamo al minimo condizioni chiaro scuro direi che possiamo terminare questa prova qua in ultra hd sempre con moto x force